Luigi Coclite, uno degli operai morti nel crollo del cantiere del supermercato S. Lunga registrato ieri a Firenze, era originario di Montori Alvomano. La notizia della sua scomparsa ha immediatamente suscitato dolore e incredulità. Bravissima persona, io lo ricordo bene anche perché ha lavorato con la nostra azienda. Lo ricordo tutti perché aveva un cuore, cioè un ragazzo eccezionale, viveva per gli altri, se aveva qualcosa lo preferiva più dallo all'altro che per lui. Aveva trovato una ragazza eccezionale con cui aveva creato una famiglia, due bellissimi ragazzi. Purtroppo dopo la sfortuna si è accanita su un ragazzo eccezionale. L'innata simpatia, l'immancabile sorriso ma soprattutto la grande generosità che donava a tutti. Così gli amici e i compaesani montorriesi ricordano Luigi Coclite. Tornava spesso, ci sentivamo per una cena quantomeno e ci avevamo formato anche un gruppo su WhatsApp dove ci sentivamo spesso per battute o anche per organizzarci qualcosa. Io non so se posso dire, sono incazzato perché negli ultimi due anni quattro amici stretti proprio loro sono andati via proprio perché di Montorio sa di chi parlo. Chi l'ha conosciuto sa bene che è un compagnone e dovevamo sentirci adesso per Pasqua, dovevamo rivederci. Siccome lui non aveva più la casa a Montorio, la mamma, gli aveva anche offerto l'ospitalità. Coclite aveva deciso una trentina di anni fa di trasferirsi in Toscana dove aveva conosciuto la moglie e aveva messo su famiglia Colle Salvetti in provincia di Livorno. Il sindaco Fabio Altitonante ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno del suo funerale. Una notizia che ha scosso tutti, è una famiglia conosciuta, una famiglia di lavoratori di Montorio. Lui lavorava da anni fuori ma il fratello lavora qui a Montorio in un'azienda montorriese, una sorella, una mamma, dei figli di Luigi. Siamo sconvolti, ci dispiace, morire sul lavoro è sconvolgente. E poi una persona che sì che non viveva qui da anni, che però frequentava Montorio, quindi vedevamo nei giorni festivi, frequentava Montorio. Faremo il lutto cittadino perché la nostra piccola comunità è rimasta scossa. Lei ha parlato con gli amici, soprattutto con il fratello che è partito subito. Il fratello è partito subito, ci sono diversi amici a Montorio che anche ultimamente si frequentavano di più. È una generazione molto unita, quella degli anni 60, perché parliamo di tutti i ragazzi nati negli anni 60 e ci sono stati molti contatti, molti aiuti anche tra le famiglie.